Ciao a tutti ragazzi, oggi parliamo della sportiva Ultra Raptor 2 Mid. Abbiamo visto l'anno scorso il modello 2 LIDAR che non mi era piaciuto, quest'anno proviamo il modello senza pelle e i Mid. Adesso insieme ne vediamo pregi e difetti. Iniziamo come al solito dalle caratteristiche di queste Ultra Raptor 2 Mid. Per quanto riguarda la suola, abbiamo una suola Frixion White di casa La Sportiva, un drop di 9 mm con un'intersuola in eva, tomaia in mesh con fodera in Gore-Tex per renderla impermeabile e per quanto riguarda il peso, nella taglia 42 pesa solamente 470 grammi. Adesso che abbiamo visto le caratteristiche, guardiamo insieme pregi e difetti. Iniziamo come al solito dalla suola. Qua troviamo la Frixion White di casa La Sportiva, la suola più performante della garma Frixion e in generale possiamo dire che è una suola che non si comporta tanto male. Eviterei, fossi in voi, tutta la parte di roccia bagnata, umida e magari particolarmente unta, perché lì stenta parecchio, ma per quanto riguarda poi tutto, la parte di sentieristica, tutta la parte di sentieri single track, fondo valle, anche sentieri magari un pochino di alta montagna, beh, allora lì dà veramente un buon grip. L'unico aspetto che non mi ha mai convinto dell'Eutra Raptor è la durabilità della loro suola. E anche in questo caso, secondo me, dopo 800 km non saranno più utilizzabili, perché il tassello si consuma molto velocemente e una volta consumato il grip è peggiora drasticamente. Quindi diciamo che comunque, per quanto riguarda un utilizzo di media montagna, vanno più che bene. Continuiamo, arriviamo a parlare dell'intersuola. Qui, come vi dicevo, troviamo un'intersuola in iniezione diretta in Eva. Ovvero, cosa vuol dire? Che questa scarpa ammortizza veramente molto molto bene. Io l'ho utilizzata in trekking veramente lunghi, in cui sono stato sulle gambe per 12 ore, con uno zaino anche abbastanza pesante, e ti assicuro che sono arrivato a fine giornata senza avere le gambe stanche. Poi, la parte di intersuola non è rigida, ma è sicuramente un pochino più rigida rispetto a quella che può essere una normale scarpa da trail. E questo gli dà un ottimo feedback quando camminiamo su un po' di sassolini, un po' di sassi. Quindi, davvero, mi è piaciuta molto l'intersuola, sia per questa protezione rispetto ai sassi, sia per quanto riguarda l'amortizzazione. Continuiamo, arriviamo a parlare della Tomaya, iniziando dal puntale. Un puntale decisamente strutturato. Vi assicuro, potete prendere a calci una roccia e non sentirete assolutamente nulla. In generale, poi, tutta la parte della Tomaya mi è piaciuta molto. Non l'ho trovata così traspirante come l'avrei voluta. Diciamo che è migliorabile da questo punto di vista. Probabilmente quando inizia a fare veramente caldo, quando saliamo sopra i 27-28 gradi, dentro questo tipo di scarpa si suderà parecchio. Però, in generale, comunque è una Tomaya che è duratura, molto resistente. Mi piace poi tutto il fascione messo nella parte inferiore, che va a proteggere la Tomaya e gli dà ancora più struttura. Quindi, comunque, è una Tomaya veramente buona. E per quanto riguarda la fodera, come vi dicevo, abbiamo una membrana in Gore-Tex che la rende impermeabile. Continuiamo, arriviamo a parlare della parte del tallone. Qui troviamo un tallone abbastanza strutturato, poi con tutta la parte mid della scarpa. Vi assicuro che con questo Ultra Raptor non prenderete mai delle storte. Davvero, di questa scarpa la parte del tallone mi è piaciuta veramente tanto. Molto strutturato, fatto bene, con i giusti materiali. Pensate addirittura che la parte superiore del tallone è fatta con una linguetta morbida, in modo tale proprio che quando andiamo ad appoggiare di tallone non abbiamo nessun tipo di abrasione sulla parte posteriore del piede. Quindi, studiate veramente bene. E poi tutta la parte del collare in alto, abbastanza rigida ma morbida. Davvero, la parte del tallone è la parte che più mi è piaciuta di questa scarpa. Continuando, rinviamo a parlare poi di tutta la parte di allacciatura. E per quanto riguarda i lacci sono molto semplici, nulla da dire, lavorano bene. Abbiamo un solo occhiello nella parte superiore per andare ad allacciarla, quindi lavora decisamente bene. Anche la linguetta è abbastanza sottile, non è troppo imbottita, ma se non stringete eccessivamente i lacci, svolge bene il proprio lavoro. Per quanto riguarda invece la soletta interna, questa è Ortolite, rimbrandizzata alla sportiva. Ortolite è una garanzia da questo punto di vista, mi sono sempre trovato bene, quindi anche in questa scarpa mi ci sono trovato bene. È rimovibile, ma io personalmente non la cambierei. Per chi consiglio questo tipo di calzatura? Allora, secondo me va bene un po' per tutti. Dal principiante che si sta avvicinando al mondo della montagna, alla persona esperta che vuol fare dei trekking molto lunghi, magari anche un po' impegnativi. A livello di utilizzabilità, penso che questa scarpa sia polivalente, può utilizzarla a qualsiasi tipo di escursionista. Su che terreno invece la userei? Come vi dicevo, io eviterei sicuramente i terreni d'alta quota, dove c'è tanta roccia, e dove c'è tanta roccia magari anche liscia e bagnata. Per il resto, per quanto riguarda la media montagna, la bassa montagna, quindi diciamo un pochino più fondo valle, è perfetta. Davvero una signora scarpa. Arriviamo alle conclusioni per queste. La sportiva Ultra Raptor 2 Mid. Ve le consiglio? Sì. Sì, mi ci sono trovato veramente molto bene. A livello di prezzo costano 160-170€ online. Lo so, è un prezzo comunque abbastanza alto, ma per una calzatura che secondo me vale la pena. Perché prendete questa, potete farci tantissimi tipi di trekking, potete usarla in tantissime condizioni. È un acquisto che può andare bene un po', diciamo a 350 gradi. Detto ciò ragazzi, io nella speranza sia stato esauriente e esaustivo anche per questa recensione. Vi ringrazio per la guardata e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!